Vigili del fuoco al lavoro per capire se ci sono degli elementi utili che possono permettere di scoprire se gli incendi alla Valentino e alla Lemme nel cuore industriale di Levane in via Valiani hanno la stessa origine. Il sospetto del dolo circola con insistenza. Da giorni ha colpito la freddezza, la precisione e l'obiettivo colpito, ovvero due aziende di grande livello che da sempre sono punto di riferimento per tutti. Oggi il lavoro è ripreso alla galvanica della Lemme che ha in Daniele Gualdani il suo punto di riferimento. Per la Valentino dove i danni sono stati devastanti l'azienda ha ufficializzato la diversificazione a partire dal mese prossimo della produzione che coinvolgerà lo stabilimento di Montelupo Fiorentino. L'altro centro in via Valiani è lo spostamento nella Ex Lemons che ha messo a disposizione proprio Patrizio Bertelli. Sui due incendi stanno cercando di aprire il velo da una parte Marco Dioni e dall'altra Angela Masiello. La procura ha predisposto un coordinamento visto che le due aziende sono contigue e hanno conosciuto la stessa sorte. Toccherà poi ai vigili del fuoco fornire gli elementi tecnici che serviranno per alzare il livello delle indagini. Al lavoro anche i carabinieri della compagnia di San Giovanni Valdarno. Intorno le telecamere di sorveglianza possono dare utili indicazioni.